Ciao, io sono Serena Milano e oggi sono qui per parlarvi del mio secondo libro che si intitola Memorie di una tata, come i bambini ci insegnano la vita, un report per adulti consapevoli. In questo libro mi sono impegnata a cambiare il punto di vista e a ribaltare i ruoli sociali. Qui dentro non sono gli adulti che insegnano, ma sono gli adulti che si abbassano e imparano da questi piccoli, grandissimi insegnanti. Io sono profondamente convinta che un bimbo sia come un semino in grado di raccogliere in se stesso tutte le sue qualità e le sue potenzialità e penso che sia compito di ogni adulto preparare le condizioni più idonee affinché questo semino possa germogliare e vivere in tutto il suo splendore. Da sempre l'uomo ha sentito la necessità di coltivare prima per sfamare e per rispondere a un bisogno fisico. Oggi si è un po' persa, ma io credo che sia necessario fare un passo indietro e ritornare alla coltivazione, questa volta non per cibare bocche ma per sfamare anime. Io credo anche che non sia necessario essere genitori per capire il potenziale di ognuna di queste piccole creature e credo che sia un compito morale ed etico di tutti di creare le condizioni migliori per chi abita oggi questo pianeta e per chi lo abiterà dopo di noi. Vi auguro una buona lettura. Ciao! Ciao!